Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Kluivert, Serchi Roberto, prova il filtrante. Kluivert, che grande giocato di Kluivert. E questo gol da loro ancora maggiore sicurezza. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Credo che nessun portiere al mondo ci sarebbe arrivato. Bellissima conclusione, angolatissima. E arriva anche l'ultimo cambio a loro disposizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.